Non una ciclostorica qualsiasi, ma la ciclostorica che corre nel cuore della storia del ciclismo. La Ghisallo ha nel DNA, nel suo stesso nome, l'origine, la leggenda e le tradizioni di questo sport conosciuto in tutto il mondo. Il Colle del Ghisallo è stato testimone di entusiasmanti sfide, il Giro di Lombardia, il Giro d'Italia, la Coppa Agostoni. Non è un caso se la Madonna del Ghisallo è da sempre venerata dai ciclisti e ne è diventata patrona nel 1949, anno in cui le pareti della chiesetta hanno iniziato a riempirsi di cimeli lasciati dai corridori in segno di devozione. Nomi illustri, quali Girardengo, Cimundi, Moser, Merckx, Coppi e Bartali sono annoverati tra i donatori più conosciuti. Ci sono le bici di Coppi del Tour del 1948, quella di Casartelli morto nel Tour del 1992, quella usata da Moser per il record dell'ora, le maglie di campioni come Pantani e le foto di tanti ciclisti morti sulla strada. A lato del santuario si apre un immenso balcone con la vista sulle montagne lombarde, ma anche su una fetta di lago. Immancabile la visita al museo omonimo. Qui sono custoditi i cimeli donati dai ciclisti al santuario che con il tempo sono diventati tanto numerosi da non trovare più posto nella piccola chiesetta. A presiedere il comitato per la realizzazione del museo è stato chiamato Fiorenzo Magni. Il museo è stato inaugurato il 14 ottobre 2006 in occasione del Giro di Lombardia, con una cerimonia alla quale hanno partecipato diversi campioni del presente e del passato. Il museo si sviluppa su terpiani e comprende anche una raccolta multimediale di materiale sul ciclismo. Il museo si sviluppa su terpiani e comprende anche una raccolta multimediale di materiale sul territorio. Il museo si sviluppa su terpiani e comprende anche una raccolta multimediale di materiale sul territorio. All'interno del museo è esposta la più grande collezione di maglie rosa al mondo, grazie al progetto Girofor Ghisallo, che ha permesso di recuperare ed esporre nella sala principale più di 50 maglie rosa originali dagli anni 30 ad oggi. Buongiorno a tutti, siamo alla Ghisallo, siamo in questo meraviglioso tempio del ciclismo, che è appunto il santuario e il museo del Ghisallo. E con noi abbiamo Antonio Terragni, il presidente della polisportiva Ghisallo, nonché il patron di questa bellissima manifestazione. Lui comunque è il presidente, è il massimo responsabile. Allora, Antonio, questo a Ghisallo come sarà? Beh, già oggi abbiamo fatto il primo pezzo. Quest'anno il nostro slogan erano due a prezzo di una, due ciclo storico a prezzo di una. Quest'anno siamo partiti da Magrillo questa mattina, abbiamo fatto Sormano, un piccolo infresco, ci hanno accolto bene, siamo scesi a Lecco, altra esibizione con i ciclo storici, in piazza 20 Settembre, è una piazza bella, perché è assolutamente passaggio pedonale, ci hanno accolti bene, siamo ripartiti, siamo a Tebellagio. E qual'era la formula di questa manifestazione di questa mattina? È la formula, è la solita formula delle varie ciclo storiche, cioè sono delle passeggiate in amicizia, solo che quest'anno abbiamo inserito la scalata da Bellagio a Ghisallo, che è una cosa nuova per le ciclo storiche. È anche abbastanza dura? Abbastanza dura, perché sono 14 chilometri, 11 chilometri esattamente, con 14% massimo di pendenza e abbiamo fatto squadre da 6 atleti ed ogni atleta faceva circa un chilometro e mezzo, perciò erano 5 cambi, il sesto è quello che arriva da Civenna, arriva su qui a Ghisallo. La parte più dura è quella di partenza, da Visnola c'è il pezzo con i mulini del Perlo, che è proprio un partito a freddo e c'è la pendenza maggiore. La parte più bella è quella dalla chiesetta di Quello e si arriva a Civenna, che si può dire che è pianeggiante, c'è anche dei pezzini abbastanza in discesa, e l'ultimo strappo qua è impegnativo. E invece domani si parte da Monza? Domani, in occasione del centesimo anniversario della Gazzetta del Sport, che è organizzato il Giro d'Italia, si parte dall'autodromo in Monza, 11.30 a giro all'interno dell'autodromo, poi si esce dal Golf di Monza e si passa a Biasono, i vari paesi, la Brianza e si arriva a diversi saliscendi, perché la Brianza è fatta tutta di saliscendi, e si arriva a Lago di Pusiano, si sale, Eupiglio, Lago del Segrino, un pezzo di sterrato, a Canso c'è il secondo ristoro, il primo è a Monticello Brianza, il secondo è a Canso, e abbiamo poi l'arrivo qua, previsto intorno alle 15.15-15.30. Bene, poi pranzo finale, tutti insieme qui al Ghisallo, il pasta party. Questa sera però abbiamo una pericena, una pericena che inizia alle 19.30 al museo, e sono invitati tutti i ciclo storici e i personaggi che sono qua, il mercatino, tutte queste cose. Domani c'è invece il pasta party, oltre ai due punti di storia, c'è il pasta party al Ghisallino, un ristorante, il nostro partner, anche lui per questa ciclo storica. La Ghisallo, molti ospiti importanti, tra i quali Marino Vigna. Marino Vigna, ricordato da tutti noi, io non ero ancora nato, ma la prima vittoria importante di Marino Vigna, da dilettante, sono state queste Olimpiadi del 1960 a Roma, le grandi Olimpiadi, vince il quartetto di seguimento a squadre. Quell'anno vincemmo quattro medaglie d'oro e una d'argento. Facemmo incetta di medaglie. E abbiamo l'onore alla Ghisallo di avere il vincitore di quella Olimpiadi, che è testimonial di questa bellissima manifestazione. Marino Vigna, raccontaci qualcosa, che cos'è per te la Ghisallo e il ciclismo d'epoca? Beh, intanto è un ritornare dove gli albori del ciclismo, perché veramente credo che la Madonnina del Ghisallo, per chi va in bicicletta, rappresenti il massimo, insomma, la fede, è stata nominata a Santuario dei Ciclisti, perciò è una delle prime gite che da ragazzo ho fatto io in bicicletta, lo raccontavo ancora oggi, è stato proprio di venire su qui, ma non lo sapevo. A me avevano detto andiamo a Magreglio, andiamo a Magreglio, partivamo con i panini, il prosciutto, mangiavamo nei prati poi. In effetti poi è passato Magreglio, ho visto la chiesetta, mi si è allargato il cuore perché l'avevo vista nelle fotografie così, poi ritrovarmi qui è stata una grossa gioia e poi insomma sono venuto su tante volte, non dico che è diventata una palestra, però l'ho fatta tante volte, il ghisallo in allenamento, in corsa magari non tante volte, però in allenamento un po' di volte sì. Domani sarai alla partenza della cicla storica da Monza? Sì, penso di esserci, soprattutto perché mi hanno detto che hanno ritardato un po' la partenza, conto di esserci insomma. Di solito quando posso cerco di essere presente, quest'anno c'ero alla Sanremo, c'ero al ricordo della prima tappa del giro, insomma, poi credo di aver collaborato anche abbastanza per organizzare le partenze. Allora ritroveremo Marino Vigna domani alla partenza della Ghisallo, grazie Marino. Prego, grazie a voi. Personaggio straordinario, Imelio Mansignan, classe 1937, nasce proprio il giorno in cui muore Coppi, in un altro anno naturalmente, però una data emblematica. Lui è ricordato nel, per dire, su Wikipedia si scrive gamba secca, perché dicono che abbia una gamba più piccola dell'altra, ma non è assolutamente vero. No, più corta. Più corta. Lui è un corridore che viene dalla fatica, un corridore che ha lavorato da giovane. Lui è famoso per essere l'angelo del Gavia, per una corsa che di fatto ha perduto, però l'ha perduta in maniera paradossale e scandalosa. C'era aria di complotto, fora tre volte, in quel tremendo Giro d'Italia del 1960. Però lui, lo ricordiamo, per il Ghisallo e per la salita di Sormano, perché lui è famoso proprio per quello. Raccontaci un po' di cos'è la salita di Sormano e il Ghisallo. Il Ghisallo mi è dato, io ero per la salita di Sormano, perché l'ho fatto tre anni e poi un anno ho perso da Tacone, mi sono mai successo delle cose che non le dica. Lo dico io, l'hanno tirato in galleria. Sì, Tacone è stato attaccato alla macchina e purtroppo sono passato prima tre volte sul muro e purtroppo è andato così. Un anno ho fatto il secondo, poi l'altro il sesto e il settimo, sempre passato prima in cima io. Purtroppo mi hanno invitato adesso qua, sono venuto volentieri, perché è un posto poi che, insomma, è un mito il muro di Sormano, però è un mito anche al diro Lombardia e Ghisallo. Allora vorremmo raccontare un altro aneddoto. Allora lui ha vinto poco nella sua carriera, ma lui è stato forse lo scalatore italiano più forte di tutti i tempi, però non era abituato a vincere. Pensate che al Tour de France, a Superbagnère, un giorno ha vinto quella tappa, ma succede una cosa stranissima e paradossale. Cosa succede? Niente, io vincevo poco, però ero sempre piazzato. E io il giorno prima avevo vinto Calese e ci ho tirato la volata. Che se io non scatto gli ultimi due chilometri, Calese mi batteva anche lì. Sono andato via e ho trovato un vento contrario che ribaltava le biciclette. E sono arrivato e non c'era neanche l'ordine dell'arrivo. L'uragano ha spazzato via l'ostrisione e il palco dell'arrivo. Non facevo poco, e poi anche quella roba lì. Comunque, senti, io ho fatto parecchio, però con la forza che avevo io, potevo fare di più. Devo considerare che io ero sempre... Io vedevo i corridori in gregaria la mattina e poi li vedevo la sera. Li vedevo poco in corsa. E cosa ho fatto? E poi ho vinto tre maglie a Poitou de France. Ho vinto una tappa. Insomma, ero sempre piazzato. Ho fatto un quarto campeonato del mondo, primo degli italiani, all'Ibis e 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 all'Ibis. L'anno scorso lui è stato insignito della cittadinanza al muro di Sormano e pensate che lui era il simbolo del muro di Sormano. Addirittura il sindaco allora gli aveva promesso per premio un pezzetto di terra che lui non ricevete mai, ma lo sapete perché? Ve lo dirà lui. No, è successo che io avevo appuntamento con una ragazza di Milano e ho detto ma vengo domani. Invece domani, se ho sbagliato, dovevo prendere, mi dava 500 metri di terra che dopo tanti anni aveva un valore. Hai capito? Vabbè, dai su. Un personaggio straordinario che vedremo anche domani alla partenza. Grazie, Merio. Ciao. Museo del Ghisallo. Personaggi straordinari come Mary Cressari, classe 1943, di Brescia. Lei vince cinque campionati italiani, ma è legata al mondo della storia del ciclismo per un record fantastico al Vigo Rally. Lo vuoi raccontare, Mary? Sì, partiamo allora dall'inizio, perché ho vinto la prima gara organizzata in Italia del ciclismo femminile che prima non esisteva e questo nel 1962. Poi come seconda gara ho fatto i mondiali di Salò e ho proseguito fino ad arrivare all'84. e poi nel 1963 ho vinto il Lombardo, nel 1964 il campionato italiano, nel 1965 mi sono sposata, nel 1966 ho fatto il figlio, nel 1967 ho ricominciato e ho proseguito vincendo un altro campionato italiano nel 1972. coronato anche da quattro record mondiali a Città del Messico, di cui il record dell'ora. Il 74 quello? 72. 72. Poi nel 1973 ho vinto di nuovo il campionato italiano su strada, quello su pista e veniamo al 74 quando ho fatto il record dei 100 chilometri. Siccome c'erano i mondiali in Canada, hanno detto che le italiane non erano all'altezza delle straniere, no? Io dico, ho quattro record mondiali, penso di essere all'altezza delle straniere, invece no, allora mi sono preparato per fare il record del Vigo Rally, 100 chilometri. E si è tolta questo grosso sassolino dalla scarpa. Nonostante che dopo 35 giri ho bucato, ho dovuto cambiare bicicletta e il mio allenatore mi ha detto che se avevo recuperato nel giro dei 20 giri, allora sì, altrimenti mi fermavo e lo ripetevo, invece l'ho battuto per 3 minuti e 40 secondi. E poi dopo queste straordinarie imprese hai avuto anche un ruolo come dirigente? Sì, ho fatto direttore sportivo per tre anni, squadra femminile e due anni ho fatto il commissario tecnico della nazionale. Fino ad allora anche questa sei una specie di pioniera, no? Sì, perché non ero mai investita una donna a fare il commissario tecnico, solo che non ho potuto, come si dice, farlo fino in fondo, perché all'ultimo momento avevo preparato le ragazze per andare alle Olimpiadi a Los Angeles, non le avevo mai fatte come atleta perché non esistevano, potevo farle come dirigente, solo che hanno scelto quattro, la Canins con tre ragazzine di 15 anni, mi hanno lasciato a casa tutte le mie, nonostante non avessero già fatto preparare i passaporti, tutto, no? Ma alla fine mi hanno lasciato a casa, lì ho detto, è inutile che io sto qua a buttare via il tempo, per chi? Sono stata lì due anni a prepararle, a correre dietro e poi alla fine me le lascio a casa. Ho dato le dimissioni e non sono più andata a vedere una gara di donne. E' fatto bene perché, come da sempre, le donne sono figlie di un dio minore nel ciclismo. Ho già combattuto quando ho iniziato io a correre, ho dovuto combattere quando correvo, combattevo per le mie atlete perché io non correndo combattevo per loro e poi ci tagli le ali così, allora arrangiatevi e andate avanti voi. Però Mary ha un posto nel cuore di tutti noi ma soprattutto, guardate la sua bicicletta conservata qui al Museo del Ghisallo e Mary è qui per questa bellissima manifestazione e domani sarei anche con noi alla partenza, sì? Penso proprio di no domani perché domani compie gli anni mio figlio, 51 anni fa. Allora sei giustificata. Comunque ti ringraziamo di essere qui oggi e grazie per la disponibilità per noi di Grand Tour TV. Grazie a voi. Per la ciclostorica è tornato anche il mercatino vintage dedicato alle biciclette d'epoca, agli accessori preziosi e alle curiosità di un tempo. In mostra anche i prodotti tipici dei monti e delle valli. Lei è l'ideatore, realizzatore di questa bici? Sì, sono io, esatto. Quali stile che ho voluto riprendere con questo progetto è stato praticamente il fatto di riprendere un po' quello che esteticamente cent'anni fa era praticamente secondo me il top, il massimo che c'era. E quindi niente, ho voluto riprendere un po' quello stile lì, quindi con telai molto alti, un po' sullo stile francese dell'epoca e ho voluto ridare dignità praticamente con un progetto attuale, a renderlo moderno, funzionale, però che fosse, che riprendesse un po' praticamente il glorioso passato, infatti, di stile, di qualità e di attenzione nei particolari che c'erano. A microfoni spenti ci raccontava che comunque per arrivare qui lo studio è stato lungo e diversificato. Anni, 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 nel senso che c'è stata una passione comunque che è partita dalle biciclette d'epoca. Poi c'è stato un viaggio che è andato a ritroso indietro nel tempo e a mano a mano che andavo indietro con il tempo scoprivano che c'erano delle cose praticamente a livello straordinario sia di estetica, di fattura e di attenzione nei particolari e di tutto. E quindi poi mi sono intrappolato, tra virgolette, nel periodo che va a cavallo tra fine 800 e i primi 900 e ho voluto concentrarmi un po' in quello. Quindi c'è stata una ricerca storica che va un po' dalle macchine alle vecchie motociclette, una ricerca che va proprio nell'abbigliamento, in tutto quello che riguarda un po' quell'eleganza e quello stile che c'era cent'anni fa, insomma. Questo è un modello ma ce ne sono altri e vengono diversificati in che cosa? Allora, questo fa parte di uno dei modelli della serie Imperial, che comunque si può trovare nel sito www.mustatcycle.com e sono cinque modelli in tutto. La serie Imperial ci diversifica perché ho voluto aggiungere dei particolari, delle attenzioni in più, oltre al fatto di avere dei cerchi in legno con rinforzi in carbonio. Mentre l'altra parte c'è la Legend e l'Old Race, sono altri due modelli, uno da mezza corsa e un modello da corsa proprio, che sono un attimino più semplici, però sempre con lo stesso telaio e con la stessa caratteristica estetica di queste qua. Anche se la serie Imperial ha un livello di attenzione più alto, sì sì sì. La serata che ha preceduto la Ghisallo è stata allietata dal concerto dei Dumambas. Claudio Malfatto, voce chitarra, Kat Marino Galli al basso, Riccardo Fancini alla chitarra hanno dato vita al gruppo nato nel 2010. I Dumambas hanno abbracciato subito, in maniera definitiva, il genere teatrale e folk dialettale. Insomma, come amano chiamarlo, il teatro canzone milanese è il gruppo. Francesco Parigi è un abitué dell'eroica, ma anche quest'anno del Grand Tour. Sì sì, il Grand Tour quest'anno è la prima edizione e vorrei finirlo, farlo tutto, finirlo, perché è una bella manifestazione, è nuova, i percorsi mi piacciono e poi ci si diverte, ogni volta è una festa. Lei ci raccontava tutti i giorni in bici? Eh sì, quasi tutti i giorni sì, perché sono gare anche dure, ecco, cioè non è che siano, c'è anche le salite. Il suo approccio al ciclismo storico e in particolare all'eroica avviene quasi per caso? Sì, infatti io prima facevo qualche gara al mountain bike o ciclamatori e mio cognato mi spense a fare la prima eroica e io non ero molto contento, insomma, non ero molto convinto, ecco, diciamo, di fare questa eroica. e invece la feci, la prima volta feci la 75 km e mi piace tanto che non ho più smesso.